Mi viene intanto in mente una delle raccomandazioni prodotte dalla Convenzione Cittadina sul Clima che è realizzata in Francia dal Presidente Macron tra il 19 e il 20. Tra le raccomandazioni emerse poi passate al valore del Parlamento e approvate da quest'ultimo c'era anche la soppressione dei voli interni alla Francia per quelle tratte che possono essere percorse da treni ad alta velocità. Quindi ci hanno dato un impatto positivo sull'ambito.